e dunque ragazzi novità della mattinata la juventus ha annunciato che sbarca ufficialmente nel mondo della esports cioè per chi non sapesse cos'è l'esports è semplicemente i videogiochi i videogiochi cioè come aveva anticipato il presidente agnelli nella scorsa riunione per gli azionisti aveva detto che la juventus stava dando un occhio importante verso gli esports proprio perché erano sono la frontiera del futuro insomma è un mondo non dico inesplorato ma che sta pian piano crescendo tantissimo basta basti vedere la proprio fifa fifa federazione italiana federazione internazionale del calcio che organizza la coppa del mondo di esports ovviamente loro con la esports e con fifa in base all'anno però stiamo parlando di proprio di fifa come videogioco la juventus in quanto allo come posso dire il l'esclusiva per la konami entrata ovviamente in gamba tesas per quanto riguarda le competizioni organizzate dalla konami ci sono già dieci club che parteciperanno a questo grande torneo che si chiama i football pro i football pro e sono barcellona manchester united bayern monaco arsenal celtic monaco shal 04 boavista nand e appunto juventus è insomma una 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 è una cosa molto importante aver messo sotto contratto tre giocatori videogiocatori professionisti è uno sguardo verso il futuro una squadra la juve è una squadra che veramente quando si dice che dieci anni avanti è dieci anni avanti cioè una squadra che veramente quando gli altri sembra che ci possano raggiungere come organizzazione subito dopo tram noi mettiamo il carico e super li superiamo questa è una cosa che per molti farà storcere il naso di mai cosa mi interessa dei videogiochi della juve ma in realtà i videogiocatori è veramente una frontiera soprattutto all'estero io credo che la juve abbia avuto il lampo di creare questa cosa non quest'anno ma l'anno scorso poi non so se lo sapete ma in mls quando abbiamo fatto il torneo in america che abbiamo giocato contro gli mls all stars l'anno scorso parallelamente l'mls organizzato lì all star game cioè appunto legato agli esports e aveva partecipato anche un ragazzo per la juve non era ancora squadra non era ufficialmente la squadra juventus ma era uno che rappresentava la juve ecco quell'evento lì è stato visto più della finale di mls cioè di campionato di campionato statunitense di calcio vero lì all stars quel torneo lì è stato visto più di quella finale vuol dire che agnelli che non è proprio un cretino anzi io credo che sia veramente uno dei più innovativi per quanto riguarda la preside i presidenti attualmente in europa abbia notato che gli esports sia uno sguardo verso veramente il futuro io credo che la juve comincerà col gli esport con la konami a livello calcistico ma penso che si possa ingrandire anche ad altri ad altre realtà perché gli esports e gli esports quindi magari si potrà inserire anche una squadra per altri giochi che ne so prima ovviamente fortnite o che ne so però questo è un passo importante un passo importante e credo che a me piace questa cosa francamente perché quando vedo una squadra la mia squadra che si allarga in questa maniera con più di in più di in più settori e a me piace a me piace dunque creando gli esports la juve possiamo dire che crea ora tante squadre da seguire anche questa una squadra in più da seguire insieme a le women che non è stata la prima ma è stata una delle prime e quella secondo me che ci ha puntato più di tutte senza non la togliere tutte le altre ma la juve è stata quella che ci ha puntato con più diciamo cattiveria aziendale cioè con più convinzione e con l'under 23 che la juve è l'unica squadra ad averla quindi sicuramente questo questo possiamo dirlo è l'unica la seconda squadra in italia c'era solo la juve e poi quelle che già c'erano tipo la primavera le altre under ma sinceramente credo che questa innovazione c'è la squadra di e football che poi qua e football in realtà e sports in generale perché ho detto la juve inizierà con l'e football ma poi potrà crescere potrà migliorarsi anche in altri videogiochi non solo pes 2020 questo caso qua però è credo che sia un'innovazione veramente importante io faccio un in bocca al lupo ai tre ragazzi che parteciperanno a questo torneo e faccio un in bocca al lupo alla juve per questa nuova avventura ripeto una nuova squadra in più da seguire sono particolarmente contento perché come ho detto prima e come aveva detto agnelli gli sports cioè i videogiochi in generale sono il futuro e la juve c'è entrata dentro con tutte le scarpe ciao ragazzi al prossimo video